Il premio consegnato da Alfonso Pepe è stato un grande riconoscimento per noi e per tutto il territorio. Posso confermare che è stato un vero piacere ricevere questo riconoscimento perché esprimeva la mentalità di mio padre, cioè mette in evidenza le eccellenze campane e del nostro territorio e con questo premio si riesce molto bene. Nonostante questa pandemia ci siamo attrezzati principalmente grazie alla piattaforma online e con questo siamo riusciti ad andare avanti. Continueremo a promuovere i prodotti del territorio collaborando con l'Accademia dei Maestri di Pasticceria che già facciamo parte. Mentre per il futuro della pasticceria italiana continueremo noi soprattutto a lavorare e a metterci la massima dedizione per rimanere alcuni dei protagonisti appunto del panorama italiano e soprattutto io cercherò di metterci del mio visto che sono entrato in questo ambiente da poco e cercherò soprattutto di seguire i consigli dei miei zii e il prezioso contributo che mi ha lasciato mio padre e la sua grande passione.